Oggi faremo un puzzle di vino. I pezzi come sono? Questi pezzi. Sono grandi? Sotto ci sono delle polli. Allora, mettiamo insieme la confezione. Allora, questa è Sula. Montiamo Sula. Sì, montiamola Sula. Montiamo Sula. La povera Sula. La povera Sula, montiamo. La povera Sula. Ma che personaggio è Sula? Sula è un personaggio di Sula. E ma chi è? È l'amica di Vini. E che animale rappresenta? Un elefantino. Poi, guarda lì chi c'è vicino a Sula. Che c'è vicino a Sula in basso? È Panto. Cerchiamo il test di Panto. Come sei veloce, Eva. Questa è la mano di Sula. No, prima montiamo Bing. Va bene, prima montiamo Bing. Bing. E che personaggio rappresenta Bing? È un coniglietto. E chi è il suo migliore amico, il pupazzo? Dopo, quando abbiamo finito, dopo ripetiamo i personaggi. Va bene. Ma come siamo veloci. E chi è la coniglietta questa? La coniglietta? Non ti ricordi il nome? Coco. Bravo. Cosa ci manca? Vediamo cosa ci manca. Pando. L'amico di... Vini, anche il Pando è l'amico di Vini. Poi, che pezzo ci manca? La... Questa cos'è? La scritta. La scritta di Bing. Poi? Questo è il piccolo Charlie. Il piccolo Charlie. Ti ricordi un episodio col piccolo Charlie? Sì. Quello dove Bing cosa fa? No. Perché piange, mamma, lì? Perché Bing ha fatto un grande, grande, grande bu. E quindi cosa ha fatto Charlie? Ha pianto. Ha detto Charlie, poverino. Ha detto Coco, non piange. E ha giocato un grande, grande bu. E Ivan, nel frattempo tu l'hai finito. Coco, Charlie, Ranocchia, Flop, Sula, Ping, Scogliattolo, Pando e Occellino. Eh sì, ci sono anche altri animaletti. Vediamolo bene. No, farò anche una foto così. Eh, sul puzzle. Puzzle di... Puzzle di Bing. Puzzle di Bing. Boda, giordate, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vi aspetto al prossimo video. Non mi cliccatevi di iscrivervi al mio canale YouTube. e da qui storico. Ciao, ciao.